Una storia sportiva lunga oltre 50 anni che sta rapidamente toccando aspetti grotteschi e addirittura situazioni degradanti per una ventina di giovani atleti. Dopo il clamoroso abbandono del campo da parte di Marco Campelli, ventenne prelevato insieme ad altri 5 atleti due giorni prima della partita di domenica scorsa per sopperire allo sciopro dei giocatori e che ha abbandonato il campo in cui erano entrati solo in sette, Capodorrando si mobilita per i giocatori abbandonati dal proprio destino da una dirigenza assente. Un gruppo di tifosi infatti si sta tassando per consentire un pasto caldo ai giocatori che ormai da giorni erano costretti ad usufruire di un panino e di una bottiglietta d'acqua accordata dalla dirigenza in una salumeria cittadina. Martedì sera Saverio De Benedictis, l'imprenditore campano che avrebbe ottenuto le radine dell'Orlandina da Massimo Romagnoli, ex presidente del quale non si hanno notizie da tempo, è andato via da Capodorlando non dando alcuna spiegazione se non quella di voler cedere ad un altro presidente. Così, nel frattempo, i giocatori, 20 persone che vivono di calcio e che riescono a portare avanti con questo lavoro la loro famiglia, sono rimasti in due appartamenti di un villaggio turistico, dormono tutti in tre stanze, e da pranzo sono stati ospitati in un bar che insieme ad un gruppo di tifosi ha garantito loro un pasto caldo. Prima si erano recati dal sindaco Enzo Sindoni, ai quali hanno raccontato quello che sta diventando per loro un incubo. Hanno spiegato di non ricevere da mesi lo stipendio, hanno spiegato che sulle loro auto tengono le valigie, visto che la struttura in cui sono alloggiati non è stata pagata e potrebbe cacciarli da un giorno all'altro. Il sindaco, oltre a dare la propria solidarietà, ha invitato i giocatori a ribellarsi alle umiliazioni in cui sono sottoposti e a denunciare pubblicamente quanto sta accadendo. Intanto è arrivata anche la beffarda squalifica ad un anno per Marco Campelli, il giocatore reo di essersi rifiutato di giocare la gara di domenica pomeriggio. Era con sei compagni sul terreno di gioco, sapeva che si trattava di una comparsata e di fronte ad una trentina di tifosi, tra cui alcuni ex giocatori, che si erano rifiutati di scendere in campo e che gli chiedevano di non prestarsi a quanto stava accadendo, ha lasciato il terreno di gioco ed ha raggiunto i compagni. Secondo la Lega Nazionale dei Dilettanti, il suo gesto vale la squalifica sino al 21 dicembre del 2015.